ed eccomi con la recensione del dp specie shape che mi ha inviato art luna beh che dire è meraviglioso questo micetto intanto i diamantini erano perfetti in quantità molto superiore rispetto al necessario anche di quelli grandi che insomma è difficile riuscire a perderne ne avevo di più quindi anche se ne avessi accidentalmente persi comunque ne avrei avuti a sufficienza le stelline che dire sono meravigliose e anche per posizionarle è stato più facile del previsto i diamantini sono tutti saldi sulla tela la tela ricordo che essendo un dp parziale è appiccicosa ma solo nei punti in cui si posizionano gli diamanti mentre per il resto è normale liscia cosa mi piace di più di questo dp la luna dalle immagini che vedete sembra che la luna sia tridimensionale cioè che sia spessa in realtà è solo un gioco di colori perché è completamente piatta sulla tela ma vedendola così veramente non sembra sembra proprio bombata come è meraviglioso come gioco di luce anche i decori che troviamo lungo il suo andamento mettono proprio in risalto la forma con queste piccole catenelle fatte di diamantini con la stellina finale le farfalle invece hanno il contorno iridescente che quindi riflette tutte le tonalità di colore che sono attorno al dp i diamantini bianchi sono della tipologia aurora borealis quindi perlati cioè veramente c'è un tripudio di luce in questo dp con diamantini di molte tipologie diverse ma mixati anche perfettamente quindi il risultato è veramente ottimo per quanto riguarda la cornice per appenderlo in casa ne ho trovata una che è abbastanza larga cioè c'è abbastanza spazio tra il vetro e il fondo per cui mi stanno i diamanti spessi come ad esempio le perle che sono molto bombate vi ricordo che se acquistate dart luna e potete avere uno sconto del 10 per cento sul valore del vostro carrello utilizzando il codice che trovate in descrizione del video e anche qui in sovraimpressione iscrivetevi anche il gruppo facebook diamond painting italia e seguiteci sui social per essere sempre aggiornati sui nuovi dp ciao